Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar del progetto FAST dell'Ambito A Transizione Digitale. Abbiamo un po' cambiato i programmi rispetto a quello che vi era stato annunciato la volta scorsa perché nel frattempo è uscita la nuova edizione del piano triennale per l'informatica e abbiamo quindi ritenuto che questo documento così importante per la programmazione all'interno delle pubbliche amministrazioni su questi temi avesse una priorità rispetto ad altre tematiche anche per capire quali sono le differenze e se ci sono delle novità rispetto a quanto fatto l'anno passato, quanto è uscito pubblicato nell'anno passato. Chiaramente questo è un tema particolarmente caldo e particolarmente interessante perché il nostro compito è quello di cercare di accompagnare i comuni che hanno aderito la nostra manifestazione di interesse per l'Ambito A, siete 285 comuni e non vi abbiamo ancora contattato tutti ma stiamo via via per farlo e siete sparsi in tutto il territorio nazionale. Quello proprio di accompagnarvi attraverso un'analisi della situazione dello status quo della vostra amministrazione sui temi del digitale e per poi valutare insieme quali sono le priorità, proprio accompagnarvi a fare qualche passo avanti su questi temi. Le cose da fare sono tante, c'è anche una grandissima offerta anche di fondi, sappiamo che però al solito le risorse sono poche, quindi il nostro compito è quello di affiancarvi, cercheremo il più possibile di starmi vicino nei territori con degli incontri, con queste giornate di formazione perché pensiamo che questo possa essere un valore aggiunto del nostro progetto rispetto a quelle che sono le tante grandi necessità che i piccoli comuni debbono affrontare. Oggi vi dicevo appunto parleremo del piano triennale per l'informatica, il nostro relatore sarà Michele Vianello che avete già avuto modo di conoscere per cui non c'è bisogno insomma di loro presenti, quindi racconterà appunto delle nuove edizioni di quelli che sono i principi per la transizione al digitale, come questo piano triennale si combina e si intersega anche con tutti gli altri adempimenti programmatori che sono poi appunto il Piau e quindi questo diciamo cercheremo di farlo insieme anche negli incontri per coloro di voi che sceglieranno appunto di occuparsi insomma o che non l'hanno ancora fatto e di seguire diciamo questa questa tematica per cui è bene diciamo a dire che tutti noi insomma abbiamo un po' un quadro della della situazione. Chiedo a Michele di collegare, già pronto e quindi tolgo la mia condivisione e ti prego di cominciare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi. Condividi. No perché non mi consente di condividere, sì che prima l'abbiamo fatto. Sì, adesso forse lo vediamo. Aspetta che vediamo, torno indietro, scusami, no interrompi condivisione, aspetta che rifaccio. No, no perché prima l'abbiamo fatto, un minuto fa l'abbiamo fatto. Apri forse la pagina delle tu... No è aperta, aspetta che abbiate pazienza e non odiatemi ma... Oh io intanto no no, intanto ecco ma adesso lo vediamo, mettilo in modalità presentazione. Ok, e ci siamo. Benissimo. Bene, buon pomeriggio a tutti voi. Oggetto di questa chiacchierata oggi pomeriggio è Piano Ternale per l'informatica 2024-2026. Prima osservazione, Piano Ternale per l'informatica in questo caso non è un aggiornamento. Voi vi ricordate che il precedente 22-24 era un aggiornamento. Questo è invece il corpo intero di Piano Ternale per l'informatica. Nel contenuto ci sono alcune novità importanti in alcuni ambiti. in altri si tratta più di strategie, quindi anche per problemi di tempo, lo dico già da subito, alcune parti non le tratterò perché non le... non penso, ma anche per come è scritto il Piano Ternale, siano già parti operative, anche perché io sto parlando in questo momento ad un pubblico di piccoli comuni, quindi onestamente, pur essendo presente una parte sull'intelligenza artificiale, francamente non essendo molto concreta, ma più di auspicio, più di indirizzi, è una parte che oggi non affronto perché poi non ho indicazioni pratiche per ognuno di voi, invece mi concentrerò sulle parti del Piano Ternale per l'informatica, quelle operative, quelle che nel triennio 24-26 ognuno di voi si troverà a dover affrontare, perché è quello che alla fine noi dobbiamo pianificare, cioè l'operatività e le cose che faremo nell'arco del prossimo triennio, insisto, comuni quasi tutti al di sotto dei 5.000 abitanti. Per fortuna Piano Ternale per l'informatica si è accorto finalmente dell'esistenza dei comuni sotto i 5.000 abitanti e quindi ha personalizzato alcuni obiettivi e alcune forme che vi spiegherò nel corso di questo webinar. Mi sono permesso di estrarre quindi dal Piano Ternale per l'informatica, quello nazionale, alcune parti che sono quelle che, diciamo così, possono interessarvi di più, cioè quelle più pregnanti, più importanti. Le altre restano di contorno, sono gli indirizzi generali che vanno rispettati. Come voi sapete, peraltro, esiste un microprogetto FAST che è proprio dedicato a assistervi nella redazione del Piano Ternale per l'informatica. Vi ricordo, poi lo affronteremo più dettagliatamente questo tema, peraltro Irene l'aveva già, diciamo così, anticipato, che il Piano Ternale si approva, vi prego, il prima possibile, perché dovete programmare la vostra attività, quindi fatelo il prima possibile, anche se Agile l'ha pubblicato in ritardo, voi fatelo il prima possibile, perché il Piano Ternale, approvato con una delibera digiunta, poi va raccordato, lo vedremo meglio, con gli altri strumenti di programmazione. Siccome deve trovare una propria correlazione, soprattutto con il Piao, ma poi vi farò vedere bene, e il Piao voi lo dovete approvare a un mese dall'approvazione del vostro bilancio di previsione, è evidente che prima, se volete, che gli obiettivi di transizione al digitale vengano concepiti, racchiusi, raccordati con gli strumenti di programmazione generale, e bisogna farlo il prima possibile per raccordarli. Questo concetto nel merito lo svilupperò meglio fra poco, però vi prego questa parte, fatelo il prima possibile. Qui ho indicato qualsiasi domanda voglia porre al nostro dato. Rosaria dice, a me pare che nel mio comune non sia mai stato approvato. È possibile? Sì, è possibile. Perché trovo nel mio girovagare per l'Italia amministrazioni che non hanno mai approvato il Piano Ternale per l'informatica, non solo piccoli comuni. Quindi anche qua l'esortazione è aderite al microprogetto Redazione Piano Ternale per l'informatica, perché vi aiutiamo a farlo, ad approvarlo, eccetera. Ora, da un punto di vista metodologico, io ho riorganizzato il nostro ragionamento, quindi vi lascio poi alla lettura più approfondita del Piano Ternale per l'informatica, quello di Agit. E io ve l'ho organizzato in questo modo. Cosa programmare? Quindi quali sono le cose che bisogna programmare? Perché è uno strumento di programmazione, non è solo un'enunciazione generale di principi, di valori, di cose. È uno strumento di programmazione a tutti gli effetti, che peraltro si rifà alla programmazione europea, programmazione europea fatta di obiettivi precisi. Quindi quello che noi programmiamo sono obiettivi precisi. Con quali altri strumenti di programmazione raccordarsi? Parte seconda. Quindi come raccordiamo gli obiettivi che ci siamo dati? Con il documento unitario di programmazione, con il PIAO, con gli strumenti di programmazione finanziaria, con il piano dei fabbisogni formativi del personale, eccetera. Come organizzarsi? Perché sia dal punto di vista, qui ci sono le novità vere del piano triennale, cioè non solo la valorizzazione del ruolo del responsabile transizional digitale, ma anche una valorizzazione alle forme di organizzazione consortile o alla gestione associata. e quindi qui ne parleremo un po', perché uno dei punti più importanti è appunto il tema, cioè la coscienza, che è difficile chiedere ad un comune con mille abitanti e tre dipendenti e le stesse incombenze, certo obblighi, ma le stesse modalità operative dell'Inps piuttosto che del Ministero. Il piano triennale riguarda tutti. Ma è ovvio che io non posso chiedere al comune di Brugate di sotto, che ha tre dipendenti e cinque abitanti, di metterlo allo stesso modo. Quindi come organizzarsi anche se si è piccolo. Un po' di principi generali e poi vi indico una serie di priorità. Poi vi spiego perché vanno considerate come priorità. Le ho divise in due categorie, un priorità generica e poi un priorità delle priorità, cioè le cose che non ci sono cavoli bisogna fare da subito. Da subito, da qua a fine 2024. È un triennale, ma da qua al fine 2024 vi posso garantire che ci sono tante, assolutamente tante cose da fare e soprattutto quelli comuni che alcune cose non le hanno mai fatte. Perché in questi primi giorni di piano triennale, anche incontrando altri comuni, molti mi dicono ma cavolo tutta sta roba subito, non è subito. È che siccome voi da anni non avete fatto alcune cose e oggi diventano obbligatorie e ve le trovate tutte ad affrontarle. Ora se seguite un po' anche il nostro metodo e come vi aiutiamo a fare il piano triennale, tutto è subito e impossibile. Chi lavora con me sa che io tutto è subito e non esiste. Però bisogna darsi alcune scadenze precise e poi arrivare ad alcuni obiettivi. Alcuni vi dirò, amici miei, da domani mattina bisogna lavorarci perché diventa assolutamente complicato. Allora, cosa dobbiamo prima parte da pianificare? Prima parte da pianificare è tutto il mondo che tutte le attività che sono strettamente collegate a Italia Digitale 2026, ovvero il quadro programmatorio dal quale sono discesi poi tutti i bandi PNRR ai quali voi avete partecipato. Poi vi elencherò quali sono gli argomenti PNRR che bisogna, al di là dei tempi che vi sono stati dati per chiudere il bando, che bisogna assolutamente fare in tempi ragionevoli, oltre ai tempi da rispettare per ricevere il finanziamento. Italia Digitale 2026, ricordo a tutti noi, è parte di una programmazione europea che è il famoso Europa Digitale 2030 e a cascata ovviamente Italia Digitale 2026. Vi consiglio di leggervi, se ne avete tempo, qui vi ho messo i link, di logarvi a questo sito perché da qui non c'è solo i bandi PNRR, c'è anche tutto il tema della strategia e degli obiettivi da raggiungere. E da qui appunto discendono i finanziamenti rivolti a voi per poter realizzare gli obiettivi. Attenzione, rispetto a precedenti piani triennali una parte degli obiettivi sono finanziati, utilizzando PNRR ma sono finanziati. Per capirci, l'estensione di Pago PA è finanziata PNRR. Realizzare e cambiare il nuovo sito istituzionale per rivedere i modelli di comunicazione ai cittadini è finanziato PNRR. Il passaggio a cloud è finanziato PNRR. Quindi attenzione che mentre prima la programmazione, il piano triennale per l'informatica era una programmazione senza soldi, quindi il povero RTD era una sorta di profetta disarmato che andava da ragioniere piuttosto che dal sindaco a chiedere un po' di soldi per transizione al digitale, oggi non è più così. È uno strumento di programmazione finanziato, quindi il PTI è in larga parte finanziato. E anche per questo motivo, poiché è in larga parte finanziato, deve avere stretta correlazione con il documento unitario di programmazione, con gli strumenti di programmazione finanziaria, cioè il bilancio pluriannale dell'ente. Di che tipo di finanziamenti stiamo parlando? Se hai un attimo di pazienza, poi ti faccio vedere tutti i finanziamenti, Rosario. Poi ti faccio vedere tutti i finanziamenti dei quali stiamo parlando. Perché poi ad ognuno di questi finanziamenti c'è un'area da programmare di cose da fare. E quindi va strettamente correlato a quegli strumenti. Allora, sul piano più generale voi dovete pensare che nel 2026 anche voi dovete cominciare a programmare questo tipo di attività. Perché molte, vedrete, riguardano proprio i comuni, anche quelli di piccole dimensioni. Quali sono i principali obiettivi? Questi dovete pensare anche per voi, cioè calati sulla vostra realtà, grande, piccola che sia, sulla vostra realtà. Tralascio solo il quinto, mi interessa meno, anche se in alcuni comuni potrebbe essere interessante. Ma i primi quattro, poi, con bandi pieni RR, sono bene o male finanziati. Lato primo. Qui abbiamo addirittura due obiettivi. Diffondere l'identità digitale assicurando che venga utilizzata il 70% della popolazione. Ora, diffondere è aumentare il numero della servizi che voi erogate ai cittadini utilizzando come identificazione, speed e carta di identità elettronica. vuol dire che voi dovete moltiplicare il numero dei servizi che voi offrite ai vostri cittadini tramite sito istituzionale utilizzando bando, utilizzando identificazione con speed e carta. Qui vedete, ci sono già due PNRR. Il PNRR che vi ha dato le risorse per estendere, meglio, perché il vostro comune abbia identificazioni con speed c è il bando quello dei 14.000 euro e poi l'14.1 che è il bando PNRR quello cittadino cittadino attivo. Perché attraverso questi strumenti voi dovete aumentare il numero dei servizi, quindi l'offerta, dei servizi che voi mettete a disposizione dei cittadini del vostro comune. Ora voi metterete da un punto di vista metodologico. Nel 2024 i 4, 5, 3, 2 servizi che il PNRR vi ha finanziato per offrirli in modalità digitale, ma voi dovete pensare ad estenderli, perché vedete che dobbiamo arrivare ad un numero maggiore. La norma, se vogliamo stare al CAD, dice che tutti i vostri servizi devono essere offerti anche in modalità digitale. Ma se quest'anno voi la chiudete e con questi 4 o 5 nel 2025 bisogna ampliare il numero degli strumenti, dei servizi che mettiamo a disposizione. Cioè non è che chiuso il bando PNRR e finiamo la nostra attività, cioè ci accontentiamo di 4 servizi e vabbè adesso qui tralascio quali, cosa, come. Cioè dobbiamo pensare a quei 30 servizi che vengono normalmente più richiesti dai cittadini del vostro comune. Per il fornitore è niente, fatti 4, farne 30 non è complicato. Si tratta di fare le schede servizio ma onestamente non è diciamo così un grave problema. Finanziamenti li avete tranquillamente per diffondere l'identità digitale. Quindi questo è SpeedC è sito. È finanziato, si è interamente finanziato. Poi qui ti viene posto un secondo tema. Non ci basta mettere i servizi. bisogna che lavoriamo perché venga utilizzato dal 70% della popolazione. Anche qua parliamoci chiaramente chi sono nell'ambito delle pubbliche e per questo è un obiettivo che riguarda tutta la pubblica amministrazione. Ma se io vado a vedere le pubbliche amministrazioni che offrono servizi chi sono? Comuni Provincia no Regioni no Ministeri no IMSS Agenzia delle Entrate ASL quindi siete voi e l'ASL i principali erogatori di servizi digitali più IMSS e Agenzia delle Entrate ma loro lavorano su una dimensione nazionale ma i comuni sono quelli che partecipano devono partecipare con grande forza al tema dell'estensione dei servizi digitali e assicurarsi che vengano utilizzati dai cittadini come perché so già l'obiezione ma noi abbiamo gli anziani bla il problema non è noi abbiamo gli anziani il problema è e questa è una prescrizione di piano che poi vi spiegherò bene viene messo in capo ai comuni il tema dell'alfabetizzazione digitale dei cittadini quindi è uno dei vostri compiti come adesso lo vediamo poi ve lo spiego meglio per una delle attività che dobbiamo pianificare è che nel momento in cui noi abbiamo messo online il sito con i nuovi servizi uno bisogna dirlo ai cittadini e due bisogna anche insegnargli come si fa perché altrimenti è inutile che voi mi mettiate online i servizi se poi non gli dite uno che ci sono uno che ci sono ma due soprattutto come si utilizzano e questo bisogna programmarlo peraltro vi parlerò poi del tema dei facilitatori digitali le regioni hanno a disposizione il finanziamento PNRR 1.7.2 per promuovere le reti di facilitatori digitali a disposizione soprattutto di piccoli comuni come voi quindi questo è il primo blocco secondo blocco colmare il gap di competenze digitali con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile ovviamente qui riguarda popolazione ma riguarda anche voi perché non è che si procede nel processo di transizione al digitale ma se un cittadino si presenta allo sportello e dice scusate io vorrei utilizzare Send i vostri colleghi allo sportello non sanno ancora che cos'è Send e come si utilizza perché voi vedrete uno dei grandi obiettivi è l'utilizzo della piattaforma nazionale notifiche su cui c'è finanziamento PNRR che riguarda anche tutti voi quindi bisogna fare sui vostri colleghi una seria attività di competenza digitale che non è usare Word Excel non è più quello è saper bene come si eroga speed le potenzialità di CIE che cos'è bene il sito come si utilizza Send che cos'è Inad e così via nel corso del 2024 oltre al tema del più generico dell'iscrizione al syllabus che è cosa obbligatoria il problema vero è un buon piano di formazione un buon piano di formazione destinato a tutti voi per avere diciamo così le conoscenze minime per poter come dire creare un cortocircuito domanda offerta servizi digitali utilizzo di servizi digitali perché se non c'è conoscenza e consapevolezza da parte dei cittadini voi potete mettere online tutti i servizi che volete ma come è noto nessuno poi li utilizzerà terzo punto anche questo qui sto già rispondendo a Rosaria terzo punto interamente finanziato con bando PNRR portare il 75% delle PA italiane a utilizzare i servizi in cloud prima voi potevate dire ma io ho ancora i miei server non ho i soldi per andare in cloud cosa succederà nei prossimi anni oggi bandi PNRR hanno messo a disposizione congruissime quantità finanziarie perché abbandoniate i vostri server peraltro con seri problemi di sicurezza informatica e passare interamente ad una gestione in cloud anche questo poi vedrete una parte che va accuratamente pianificata raggiungere quarto punto almeno l'80% dei servizi pubblici essenziali erogati online quando parliamo di servizi pubblici essenziali non parliamo solo dei comuni parliamo anche di cartella sanitaria parliamo anche di prenotazione di esami ma qui servizi pubblici essenziali veni disputate fra sanità comuni al netto dell'agenzia delle entrate con tutta la sua parte di dichiarazione è in parte IMS ma qui è molto meno perché nei servizi pubblici essenziali ci state anche voi oltre alla sanità e al fisco siete i tre grandi punti entro il 2026 quali sono i servizi più o meno essenziali che voi metterete online perché questo è il punto che dobbiamo programmare quindi da un punto di vista di programmazione voi vedrete lo schema di piano che noi abbiamo predisposto che serve anche ad aiutarvi a fare il punto della situazione il 31 dicembre del 2023 voi quanti servizi offrivate in modalità digitale e questa è la vostra base di partenza quanti ne metteremo online nel 2024 e qui sono i soldi PNRR e sono i due i tre i quattro eccetera ma nel 2025 quanti ne aggiungeremo con che criterio andiamo a individuare quali sono e soprattutto come li finanziamo ma qui è un pezzo di PNRR perché non penso che con i 50.000 euro che vi hanno dato per fare il sito ci accontentiamo di quello che vi dà il fornitore tre servizi e un sito con quella cifra io voglio anche programmare la messa online di altri servizi per averne appunto l'ottanta per cento entro direi il 2026 l'ottanta per cento dei vostri servizi entro il 2026 devono essere online non è complicato è un patto col fornitore ma soprattutto da parte vostra è l'individuazione fate mente locale l'individuazione di quali servizi vengono utilizzati prevalentemente dai vostri cittadini banalmente quelli che cartaceamente vi sono portati oggi al protocollo quali sono quanti sono vedrete che alla fine arriverete a averne 30-40 30-40 servizi sono quelli che nel corso di un anno i cittadini utilizzano non sono più di 30-40 entro il 2026 quei 30-40 servizi li mettiamo tutti online che vuol dire avere una scheda servizio e un collegamento con speed ce log con speed ce questo dobbiamo fare e questo è un metodo in questo ad esempio col progettino vi aiutiamo vi diamo un po' di metodo per poter arrivare a questo quindi torno a Rosaria cos'è che è finanziato con PNRR l'estensione di speed CE quindi se vi hanno dato questa risorsa avremo degli obiettivi l'estensione di Pago.pa quindi full Pago.pa i siti e le piattaforme per l'erogazione dei servizi online poi ve ne parlerò un po' di più che devono essere conformi a quanto previsto dalle linee guida agit luglio 2022 cloud computing attivazione delle API cioè dei connettori per la piattaforma nazionale notifiche perché uno dei grandi perché uno dei grandi obiettivi che dobbiamo raggiungere 24 25 e in parte 26 è l'utilizzo da parte vostra per il processo di notificazione di send perché voi se avete soprattutto se avete fatto il bando PNRR cambia totalmente il vostro processo di notificazione poi l'API per la piattaforma nazionale dati perché voi avete partecipato al bando PNRR in materia di piattaforma nazionale dati però consentitemi non voglio essere presuntuoso molti di voi non hanno ben chiaro a cosa serve se abbiamo partecipato e ci sono 10.000 euro da prendere sì ma a cosa serve e che sviluppo ha nei prossimi anni attraverso piattaforma nazionale dati voi ad esempio potrete accedere direttamente ad ANPR piuttosto che alle banche dati di IMS e questa attività è un'attività che va pianificata c'è spesa il criterio è c'è spesa pianificazione tempi raggiungimento bando PNRR ma poi estensione perché non possiamo fermarci solo a bando PNRR bando PNRR e darvi dei soldi per raggiungere un obiettivo non è limitato perché poi quell'obiettivo deve dilatarsi grande tema della sicurezza informatica anche qua in materia di sicurezza informatica esiste una straordinaria attività e un micro progetto nel quale noi possiamo aiutarvi noi formez possiamo aiutarvi formarvi con un team importante perché è uno dei grandi temi che anche i piccoli comuni ma non solo hanno sottovalutato per molto tempo ma anche oggi esplode attenzione finalmente nel piano triennale per l'informatica si pone con grande forza ma lo affronterò anche perché anche qua c'è un importante micro progetto di formez c'è la gestione di un flusso documentale prevalentemente digitale ormai dalla completa digitalizzazione del flusso documentale non si scappa più anche perché la completa digitalizzazione del flusso documentale è una precondizione per poter utilizzare altri strumenti senza una corretta gestione documentale stand non la potrete mai utilizzare senza una corretta gestione documentale un pezzo del sito resta interamente spopolato di contenuti e il cittadino di opportunità diritti quindi agit con molta forza e con direi la giusta energia pone il tema della gestione del flusso documentale prevalentemente digitale questo prevalentemente perché il cittadino può ancora utilizzare carta quindi non ho usato interamente perché avrei detto una cosa non corretta però poi vi spiegherò bene di che si tratta quando parliamo di questo obiettivo che ci pone Agit e cosa bisogna fare anche su questo tema del flusso documentale c'è un micro progetto nostro di assistenza scusate quando mi interrompo è perché bevo un goccio di acqua cosa dice rapporti con gli altri strumenti di programmazione quindi cosa programmare ve l'ho detto adesso veniamo al tema di altri strumenti di programmazione qui consentitemi il piano triennale per l'informatica pone il tema del rapporto fra sé obiettivi di digitalizzazione e il PIAO voi sapete il PIAO piano integrato attività organizzazione già avete fatto i conti bene o male lo scorso anno anche quest'anno si chiara le slide sono messe a disposizione anche quest'anno voi dovete fare il PIAO ora io vi leggo e vi do le spiegazioni del caso al cosa dice il piano triennale per l'informatica 2024-2026 in questo contesto assume fondamentale rilevanza il piano integrato di attività e organizzazione introdotto dall'articolo 6 del decreto legge 80 2021-21 al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi fermiamoci un attimo a noi interessa il tema qualità dei servizi ai cittadini primo punto perché il processo di transizione al digitale è un tema di qualità dei servizi il sito che funziona bene è un tema di qualità dei servizi l'estensione di speedcie è un tema di qualità dei servizi un buon utilizzo dell'appio è un tema di qualità dei servizi ma poi dobbiamo procedere a costante e progressiva semplificazione andare alla digitalizzazione del back office è un tema di progressiva semplificazione e reingegnerizzazione perché ad esempio poi ne parlerò perché Agide dice dovete fascicolare digitalmente ormai dovete cominciare a pensare che si fascicola digitalmente la fascicolazione digitale è un pezzo di semplificazione e reingegnerizzazione perché a monte ha come presupposto la semplificazione dei processi che voi avete non è semplicemente eliminiamo la carta è un di cui eliminiamo la carta il problema vero è i processi cioè come voi oggi gestite molti processi il Piau implementa quella che il CAD definisce all'articolo 15 come riorganizzazione strutturale e gestionale per sfruttare le opportunità offerte dal digitale prima di andare dai fornitori a comprare digitale c'è sempre il pensiero di come voi lavorate banalmente di come si protocolla banalmente di come si offre un servizio allo sportello banalmente di come si privilegia l'utilizzo di ANPR piuttosto che uno sportello banalmente la notificazione digitale cambia totalmente uno dei sistemi tradizionali di lavoro vostro che è quello il processo di notificazione l'attività del messo notificatore ma sono tutte cose che nell'arco 24-25 si fanno perché ci sono piattaforme esterne perché voi anche perché avete chiesto bandi PNRR dovete utilizzare implementare la pianificazione implica non è domani mattina per cui oddio da domani SEND è un processo e noi vi aiutiamo sulla base del piano triennale di Agile a sviluppare un vero e proprio processo che vi porta poi al goal il goal è raggiungere l'obiettivo utilizzo SEND per il mio processo di notificazione utilizzo SEND ma prima di arrivare all'utilizzo di SEND ci sono dei passaggi organizzativi e culturali da fare con voi seguendo tale impostazione i singoli enti pubblici individuano i propri specifici obiettivi di digitalizzazione eccolo qua quali sono i vostri obiettivi di digitalizzazione piano triennale per l'informatica semplificazione e reingegnerizzazione semplificazione è analizzare i vostri processi processi procedimenti e semplificarli ad esempio l'eliminazione della carta apro e chiudo parentesi collegato al microprogetto manuale di gestione documentale vi facciamo anche l'analisi a fine di semplificazione di 4 5 procedimenti questi procedimenti peraltro si possono sposare con la mappatura e il lavoro sui procedimenti del piano per la prevenzione e la corruzione che fanno i segretari generali perché le cose stanno assolutamente insieme e devono essere messi all'interno del Piao che ormai integra la maggior parte delle forme di pianificazione dell'EPA su prospettiva crinale tutti voi siete comuni o tutti o quasi sotto dei 50 dipendenti e quindi voi fate il Piao semplificato ad esempio voi non fate la parte A1 che è quella generazione di valore pubblico perché se voi aveste fatto la parte A1 generazione di valore pubblico in questa parte voi avreste dovuto portare gli obiettivi del piano del piano triennale dentro il Piao ed elencare lì tutti i vostri obiettivi di digitalizzazione di digitalizzazione ma anche di accessibilità di accessibilità e di piena fruizione dei servizi il fatto che voi non facciate il Piao quello completo non vuol dire che voi non dobbiate indicare nel Piao anche come allegato al Piao gli obiettivi di digitalizzazione questi li dovete in tutti i casi indicare anche perché e questo è obbligatorio anche nei comuni sotto i 50 gli obiettivi di digitalizzazione almeno i più importanti non tutti devono trovare proprio spazio nelle performance e le performance e quelle voi le dovete fare semplificate ma non potete non farle mettere interamente a norma il sito e consentire di mettere online 50 servizi nel biennio 24-25 è una performance ed è una performance che deve avere riconoscimento e questo assolutamente non si scappa la stessa redazione di un piano triennale fatto bene è se volete una performance non del tutto ma è una performance il fascicolare digitalmente anche a fini anticorruzione è una performance e così via quindi dovete pensare per questo prima consentitemi facendo un po' di forzatura su di voi ho detto guardate piano triennale prima lo fate meglio è perché altrimenti poi non siete in grado di raccordarmelo agli altri strumenti perché altrimenti dobbiamo aspettare luglio DUP per inserire gli obiettivi di digitalizzazione e poi revisione del DUP prima del bilancio di previsione a dicembre ma non ha senso se lo fate adesso anche perché poi molti obiettivi sono nel 2024 soprattutto quelli legati ai PNRR deve esserci quindi una coerenza profonda fra ovviamente qui c'è il piano triennale coerenza profonda piano triennale con documento unitario di programmazione sia nella parte SES che nella parte SEU ricordatevi molti molti comuni andranno anche piccoli andranno a votare fra qualche mese ma nelle linee di mandato dei nuovi sindaci anche di piccoli comuni processo di transizione al digitale deve esserci e poi nelle linee di mandato voi sapete sono votate dal consiglio comunale e poi costituiscono parte importante del documento unitario di programmazione anche quello ridotto dei piccoli comuni anche quello ridotto dei piccoli comuni ovviamente negli strumenti di programmazione finanziaria perché ciò che voi ricevete soldi attraverso PNRR poi deve trovare ospitalità dentro gli strumenti di programmazione finanziaria sia quello che voi coprite subito per pagare i fornitori sia quello che vi avanza ma che negli anni poi deve essere speso per obiettivi di transizione al digitale per capirci se voi fate un contratto cloud quinquennale con i resti PNRR voi in bilancio di previsione avete coperto ad esempio il costo del cloud nell'arco almeno di un triennio ovviamente deve essere coerente con le performance qui ve ne ho già parlato abbondantemente e ovviamente con i fabbisogni di personale essendo voi piccoli io non metto tanto l'assunzione di qualcuno che fa il CED perché questo non ci sta fabbisogni di personale qui io metto prevalentemente perché insisto siete piccoli comuni il tema dei fabbisogni formativi cioè le cose delle quali noi stiamo parlando adesso sono tutte parti dei fabbisogni formativi quindi bisogna assolutamente che nell'arco del triennio queste materie in evoluzione peraltro siano diciamo così codificate come un'attività che non si fa quando abbiamo tempo cioè è un'attività profonda di formazione perché siamo in un processo molto forte di cambiamento e onestamente mi spiace per voi se non siete in grado di starci dietro le capisco prima la collega dice noi siamo in tre dipendenti e ha ragione lei e ha ragione lei ma uno spazio di formazione perché chi fa il protocollo conosca tutti i cambiamenti che stanno avvenendo e questo bisogna trovarlo questo bisogna assolutamente trovarlo quindi coerenza profonda ma noi siamo piccoli il piano triennale per l'informatica vi consiglia perché non può imporverlo vi consiglia di adottare forme associate per gestire la transizione al digitale molte regioni stanno spingendo con molta forza per andare soprattutto per i piccoli comuni e hanno ragione a consigliare una gestione in forme associate di tante cose io non voglio entrare sul sociale sulla polizia municipale eccetera eccetera quello che a me interessa è come gestiamo in forma associata il processo di transizione al digitale quindi fare i siti redigere il manuale di gestione documentale fare il piano triennale per l'informatica estendere l'utilizzo degli strumenti digitali e così via ovvio che la collega che ha tre dipendenti da sola non ce la fa devi andare a forme associate chi vi parla in Italia segue o ha seguito molte associazioni fra comuni su questo tuttora seguo molte unioni comunali io so bene che è difficilissimo perché poi i sindaci non vogliono spossessarsi di molte cose perché il digitale è concepito ancora come una delle tante cose senza capire che ormai è diventato quella che è la famosa cruna del lago dalla quale piacciono ormai devi cominciare a passare e la figura dell'RTD è una figura dove c'è un eroico martire al quale dice tu da domani mattina fai l'RTD e senza capire che invece l'RTD fossi io un po' più giovane lavorassi in un comune me la porrei proprio come obiettivo di carriera perché è una figura che ha potere che oggi ha soldi da spendere e una forte attività di coordinamento fra tutti quindi con uno sviluppo di carriera molto forte se sono in grado di fare ora qui abbiamo molte forme di associazione io qui riassumo qui riassumo un po' il diciamo così ciò che dice Agi tenete conto che poi nella seconda parte negli allegati c'è uno studio un po' troppo universitario e cattedratico del Politecnico sulle forme del Politecnico di Milano sulle associazioni fra comuni cos'è che bisogna mettere insieme queste sono forme qui non è obbligatorio sono scelte che dovete fare voi scelte che dovete fare voi non facili l'unione fra comuni non si fa per imposizione qualche regione tralascio i nomi i cognomi fanno la legge regionale che dice tutti i piccoli comuni devono mettersi in forma associata non si fa per imposizione si fa perché c'è la coscienza che è la forma migliore se è il caso ovviamente perché trovo piccoli comuni che anche non in forma associata tuttavia fanno bene lo stesso il loro il loro il loro mestiere giustamente scrive Rosaria la mia esperienza mi insegna che con l'amore verso il proprio lavoro porta a comprendere quanto sia utile ed efficiente il processo di digitalizzazione Rosaria non ha bisogno al di là di problemi strutturali che sono i tre dipendenti ha capito dove stiamo andando a parare però ci sono parti dove bisogna farlo qui ci sono molte forme c'è una forma che dice mettiamo in forma associata una cosa molto semplice gli acquisti e le infrastrutture quindi la gestione dei CED e fare gli acquisti è una forma non mi piace molto ma è una forma molto limitata ovviamente attenzione che se si sceglie questa che ha un fondamento anche negli acquisti perché ha il più potere verso i fornitori devi trovare una responsabilità di unione per cui se sono dieci comuni uno si occupa di questa cosa per tutti e quindi c'è un rapporto di fiducia di tutti nei confronti di questo uno attenzione perché questo per esperienza non è una cosa semplice ma soprattutto vuol dire che questo uno ha un potere di spesa ha un potere di spesa e quindi vuol dire che tu scorpori dal bilancio di ogni singolo comune la posta finanziaria che poi tu dai all'unione per fare infrastrutture e acquisti ogni anno un comune ha un budget da spendere perché bisogna budgettarla ogni anno un comune ha un budget da spendere compri dieci computer ma gli acquisti in quanto tali li fa quella figura in unione ma è ovvio che se è un tema di acquisti deve avere anche degli amministrativi perché non può essere l'informatico senza amministrativi devi avere anche gli amministrativi perché devi fare processi di gara se poi devi gestire anche l'infrastruttura l'informatico deve occuparsi della sicurezza di tutti quei server devi interroquire con Agile e devi interroquire con l'agenzia per la cyber security quindi attenzione se fai questa parte piccola devi capire però che ha una serie di risvolti organizzativi e vanno convinti i sindaci perché il sindaco dice sì che bello compriamo tutti insieme perfetto dopodiché lato secondo è un altro devi stanziare soldi all'unione non più al singolo comune all'unione ogni comune ha il budget e devi garantire che c'è personale che puoi fare questo tipo di attività e siccome quando siete piccoli ho i miei dubbi che si facciano assunzioni per l'unione è evidente che ogni amministrazione deve mettere a disposizione qualcuno ad esempio un amministrativo ok oppure dicono rivolgersi a un comune di maggiori dimensioni che svolge per tutti le attività di RTD e transizione al digitale tu fai un'unione fra comuni dove ce n'è uno un po' più grossetto con più di 50 dipendenti e tanti piccoli ammesso e non concesso che quel comune sia disponibile tu devi mettere in capo a quel comune tutte le attività di transizione al digitale che vuol dire quelle di cui vi parlavo prima infrastrutture e acquisti in modo associato la funzione di RTD perché vuol dire che lui poi svolge quella funzione di sovraintendenza su tutti i comuni e così via ne conosco situazioni come queste che funzionano funzionano perché magari hanno la figura che fa questo ok hanno la figura perché mi sembra difficile che a meno che non abbiamo un po' di soldi assumi dall'esterno una figura di RTD anche perché non può essere un ragazzino con tutto rispetto per i ragazzini appena laureati in informatica perché deve essere prima di tutto un organizzatore è uno che poi deve essere già dentro gli enti perché non possiamo dargli due anni per capire in che mondo è e poi fa l'RTD cioè deve essere uno che sa di cosa parliamo che sa bene come sono fatti i comuni quali sono i problemi quali sono le difficoltà che è talmente autorevole da poter parlare con tutti ci sono queste esperienze sia chiaro adesso qui non faccio nomi e cognomi però se facciamo questo lavoro so quali sono le best practice da fare però sono figlie di un processo oppure c'è un RTD di unione è un ufficio per la transizione al digitale composto dall'RTD di ogni comune più piccolo ed è una forma di coordinamento e partecipazione in alcuni casi è quella che a me ad esempio piace di più ogni comune ha i suoi RTD anche se un comune è piccolo c'è un RTD di unione e poi c'è un ufficio per la transizione al digitale che è composto da tutti gli RTD dei comuni è ovvio che questa questa funzione soprattutto per unioni un po' più grande 12 ieri ad esempio ero lasciate stare il nome in un'unione dove sono 15 comuni si sta andando verso questa foglia questa forma di associazione un unico RTD per cui ad esempio piano triennale per l'informatica aiuterà lui ogni singolo piccolo comune a redigerlo bene ne fa la regia la regia sui bandi PNRR quindi la trattativa con i fornitori l'ha fatta lui eccetera ovviamente uno dei punti che lì si sta ponendo è il bisogno di avere degli amministrativi perché da solo non ce la fa quindi Agit vi pone questo tema opportunamente però attenzione bisogna oggi che cominciate a porvi questo problema e vi posso garantire per esperienza che il quadro che trovo di fronte è molto variegato perché hai sindaci più sensibili al tema sindaci che gli interessa meno e poi puoi avere anche resistenze interne però se vai a questo forme lasciate stare quale è perché stai prendendo coscienza che la transizione al digitale è ormai il problema più grande più importante e o lo affronti bene oppure vi troverete nell'arco del prossimo anno anno e mezzo in forti difficoltà operative guardate che una pessima digitalizzazione come ad esempio è polemico questo come ad esempio quella che ha fatto ANAC in materia di appalti poi porta ad avere problemi quindi il tema della transizione al digitale va affrontato a tempo pieno con testa contestualizzandolo non c'è un modello univoco e non può essere nessuna regione che dice da domani forma associata ovvio che per i piccoli comuni la forma associata è rilevantissima forse una condizione però la forma consentitemi possono essere diverse e questo non te lo dice il Politecnico di Milano questo sta proprio nella questo sta proprio nella vostra esperienza scegliete quella che poi vi aiuta a fare bene le cose ok però nel piano che abbiamo predisposto noi questa parte qua ovviamente vi aiutiamo nella compilazione a trovare una forma adeguata e poi scegliete voi potete anche scegliere di non farla cioè non è un obbligo è un consiglio è un'opportunità che oggi si può fare proviamo a vedere ora proviamo a vedere ora questo tema delle priorità ovviamente queste priorità io le ho estrapolate dal piano triennale quello nazionale poi di queste priorità alcune nelle slide successive diventeranno priorità delle priorità quindi cose che bisogna fare subito e altre non è che non dovete farle potete traguardarle un po' di più al 2025 mettiamola così però alcune sono degli abilitanti senza quelle penso che nell'arco di qualche mese comincerete ad avere qualche problema allora partiamo dal primo punto il primo punto è quello delle piattaforme abilitanti cosa sono le piattaforme abilitanti Speed è una piattaforma abilitante Pago.pia è una piattaforma abilitante Appio è una piattaforma abilitante Piattaforma Nazionale Dati è piattaforma abilitante Stand è piattaforma abilitante Inad non è una piattaforma abilitante ma è diciamo così un facilitatore per send oltre che essere un diritto per il cittadino cioè il diritto ad eleggere un domicilio digitale per lo sviluppo di piattaforme abilitanti io qui a fianco vi ho messo avete il finanziamento PNRR ok quindi questo ha dei tempi stabiliti che sono quelli i milestone del PNRR naturalmente poiché sono diritti che siate o non siate in PNRR e che abbiate servizi con speed quello è un obbligo non si scappa seconda grande priorità questo tema dei siti istituzionali non funziona la parte piattaforme abilitanti speed pago pia in parte la pio se voi non avete siti istituzionali porta ad accesso ai servizi digitali sito istituzionale ormai porta ad accesso ai servizi digitali finanziamento PNRR questa parte è particolarmente importante questa siti istituzionali che è la 14.1 perché è la condizione per poi avere servizi servizi funzionanti no ma io ho già avuto l'asseverazione dal ministero e un nuovo sito online occhio l'asseverazione ministeriale come scrivo poi nel piano non vuol dire di per sé essere a norma vuol dire che hai requisiti per ricevere i soldi PNRR ma poi ci sono parti di contenuto che dovete sviluppare voi come vi ho messo peraltro nel piano triennale peraltro agit vi mette dei principi generali perché fa sempre richiamo alle sue linee guida quindi non aspettatevi che poi in dettaglio si è indicato tutto ciò che voi dovete fare il dettaglio sono le linee guida agit sulle sui siti sui siti internet e sulle piattaforme di erogazione dei servizi e qua consentitemi c'è il nostro cavallo di battaglia che quello che voi odiate di più ma che dal quale adesso non scappate più che il tema dell'applicazione linee guida agit sul documento informatico poi a questo dedicherò adesso ve le enuncio cinque minuti in più perché è bene che cerchiamo di capire cosa vuol dire dal punto di vista dal punto di vista anche dell'attività nostra cloud e sicurezza informatica altro tema e qua avete finanziamento pnr tema degli open data che nei piccoli comuni è come parlargli di 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 marte che è sbarcato sulla luna e però sono mi odino gli open datari ma anche se lo facciamo un po più avanti non succede niente perché voi avrete mille cose da fare sia chiaro perché il problema non è fare il piano piano vi aiutiamo noi e lo facciamo prima vero è che poi le attività di piano devono diventare realtà ci diventano lavoro redigere il piano lo facciamo per carità in qualche ora vi aiutiamo e lo facciamo ma il problema vero è che poi ciò che scriviamo nel piano bisogna farlo e bisogna farlo e ore e ore formazione attività ed è un'attività importantissima e tutto il tema delle competenze digitali dei dipendenti e dei cittadini qui vi ho già detto per quanto riguarda voi cosa bisogna fare ne parlerò meglio dei cittadini ma qui vedete che le regioni sono finanziate col bando pnr 1.1 punto 7 e qui vi ho messo una slide che è un po il cominciare a porre le priorità delle priorità e cioè le cose dove secondo noi secondo me bisogna cominciare a lavorare da subito qui vi ho fatto lo schermino ma poi nello schema di piano sono tutte dettagliate in azioni responsabilità chi le fai eccetera eccetera ora la prima cosa alla quale bisogna cominciare a dedicarsi essendo io dopo è scontato che voi siete già su speed avete già pagopia avete già la pio quindi non mi dedico più di tanto a questo a me in questo momento parlando con voi mi interessa molto le cose nuove che voi non avete ponderato che voi non avete ancora valutato nelle loro conseguenze ora la prima cosa è send fra qualche mese voi cominciate a notificare digitalmente ovvero il vostro ciclo di notifica si ferma alla produzione di atti perché poi gli atti li notifica sia digitali che analogici materialmente la piattaforma quindi è un cambiamento anche organizzativo voi capite forte importante ma interazioni per poter notificare bisogna avere una corretta gestione documentale c'è niente da fare perché se i vostri documenti non sono redatti come previsto dalle linee guida agit sul documento informatico voi non siete in grado di notificare perché la piattaforma vi respinge ciò che non è più giuridicamente notificabile deve esserci interazione con la npr perché la piattaforma notifica a indirizzi analogici e digitali di npr quindi i vostri gestionali di produzione atti da notificare sono interagiscono con la npr oppure no perché si interagiscono con la npr siamo a posto se non agiscono come con npr prima di far partire send bisogna chiedere i vostri fornitori di creare un'interfaccia dinamica fra npr e i loro indirizzari è un tema di comunicazione ai cittadini perché cambia per voi il sistema di notifica ma cambia anche per il cittadino perché il cittadino nella notifica è abituato al postino o al messo notificatore che suona il campanello e dice notifica dal comune di viva te la pesca ma non è più così perché questa attività è tutta in mano a una piattaforma che delega terzi a fare questo e quindi cambia anche per il cittadino la modalità di notifica e il cittadino può ricevere le notificazioni pienamente legali in modalità digitale sulla piattaforma ma se tu non glielo spieghi al cittadino è complicato se tu vai su send ad esempio da giugno siamo a febbraio ai di fronte marzo aprile maggio per fare un po di attività far comunicazione ai cittadini verificare gli indirizzari verificare i flussi documentali difatti vedete che io tempi vi dico da subito qui non possiamo perdere tempo ricordatevi che in piano triennale per l'informatica entro il 2026 tutte le piauti li danno send ok e le risposte quelle che fa rosaria risponde poi irene o qualcuno di format sono ok poi ecco irene sta già irene sta già scrivendo ottimi rene grazie mille poi piattaforma nazionale digitale dati voi attraverso piattaforma nazionale digitale dati in questo momento state attivando degli e services di conferimento cioè voi conferite alla piattaforma nazionale dati alcune la possibilità di accedere a vostre basi dati possono essere le più varie può essere di tutto dal protocollo all'accedere a bid up eccetera però voi non state attivando le gli e services l'api di fruizione cioè come poter voi prendere dalla piattaforma nazionale dati in particolare in primis quelli di npr ma anche quelli di inps che vi servono ad esempio per disee questa attività adesso qui sto andando veloce poi nel piano sono descritte e se ci incontreremo per redigere il piano vi spieghiamo anche come funziona tempi anche questo entro il 2024 e poi nel tempo vanno costantemente aggiornate la direttiva minister ministero degli interni che consente l'accesso ad npr per i comuni risale a maggio dello scorso anno quindi una cosa già in funzione che però molti comuni non conoscono e soprattutto non sanno come attivarla e invece bisogna cominciare ad attivarla anche qua vi aiutiamo se serve però tempi dovete cominciare a pensarla da subito linee guida sui siti e le piattaforme di fruizione dei siti in primis come voi organizzate in ogni sito l'area personale ma che come organizzate l'area di fruizione dei servizi in cosa entra in interazione questo spide cie perché senza spide cie è chiaro che tu non puoi accedere a nessun servizio ma qui ormai lo do abbastanza per scontato pago pia pago pia perché i pagamenti e soprattutto le ricevute di pagamento devono essere disponibili nell'area personale che è presente nel nuovo sito app io ci serve perché app io sta ormai diventando l'app di notificazione di ciò che avviene ad esempio pagamenti pago pia all'interno del vostro sito ma soprattutto il tema della gestione documentale perché voi potete avere il sito più bello ma il vostro sito bello i suoi contenuti li deve prendere dai software di gestione documentale a partire dai fascicoli per vedere ai sensi della 241 lo stato di avanzamento dei procedimenti ma se voi non utilizzate correttamente i gestionali documentali e non fascicolate digitalmente voi capite che un pezzo di sito non funziona tempi da subito perché avete i soldi pnr vedete che vi ho demesso anche tempi pnr ma il problema non è i tempi di consegna del fornitore perché poi i contenuti non ve li dà il fornitore i contenuti li avete voi quindi qui vi ho messo le priorità voi mi direte tutta sta roba ma non avete ancora visto il resto per cui bisogna rimboccarsi le maniche capire che queste sono parti importantissime finalmente il manuale di gestione documentale il piano trenale per l'informatica dice cari amici dal primo gennaio 2022 sono pienamente applicabili le linee guida sulla formazione gestione e conservazione dei documenti informatici agit vi dice amici miei è obbligatorio per tutti voi adottare i manuali di gestione documentale di conservazione anzi scrive agit a partire da quest'anno noi controlleremo se in amministrazione trasparente voi avete messo i manuali che manuali se sono aggiornati se voi li avete applicati secondo le il piano trenale per l'informatica duemila comuni in gran parte piccoli non hanno ancora adottato il manuale di gestione documentale o lo hanno non aggiornato c'è un micro progetto formez questo che vi aiuta nel redigere il manuale di gestione documentale quindi siamo in grado di aiutarvi nel redigere il manuale pubblicarlo in amministrazione trasparente e farlo ma il problema successivo ti dice agit giustamente io concordo totalmente è che un minuto dopo che hai adottato il manuale devi anche cominciare a applicarlo banalmente fin dalla fase di protocollo quindi il tema della formazione dei vostri colleghi ad esempio a protocollare fascicolare digitalmente vedete che qui ve l'ho messo in grande fascicolazione digitale questo sconosciuto volevo aggiungere a bianco a protocollare correttamente a scansionare correttamente quindi queste attività vanno programmate tempi da subito procedere all'adozione del manuale se fate il micro progetto con noi nell'arco di un mese voi il manuale ce l'avete è fatto di una presenza e poi di un aiuto da remoto ma il manuale siete in grado di farlo tranquillamente ma poi una volta fatto bisogna cominciare a farlo applicare i vostri qui bisogna lavorarci un po peraltro parte un altro micro progetto che quello di aiuto sulla fascicolazione digitale perché molti di voi non sanno fare il fascicolo digitale non sta nelle vostre corde è questo due ultime parti tre ultime parti e poi lascio rispondo lascio la parola a voi il tema degli applicativi in cloud e l'abbandono dei dei server qui c'è bando pnrr qui dovete lavorare molto con i fornitori quindi qui non mi soffermo più di tanto peraltro il ministero in questo team digitale vi aiuta molto ma c'è anche il tema dell'adottare le misure minime di sicurezza il piano di sicurezza perché questi sono non solo obblighi di legge ma sono anche allegati obbligatori al manuale di gestione documentale attenzione anche qua c'è un nostro micro progetto che può aiutarvi ad andare in questa direzione infine il tema delle competenze digitali ai dipendenti e ai cittadini insisto quando andiamo a competenze digitali per i cittadini non è più come si faceva qualche anno fa insegniamo a usare word a spedire una mail però non è più quello che ci interessa tema vero è saper utilizzare i servizi online saper stare su send prendere come si fa a prendere speed se ho speed come vado nel sito dell'inps a vedere la pensione come vado nel sito l'agenzia letterale a vedere i miei i miei versamenti come va cosa di bello in npr per cui mi scarico tutti i miei certificati faccio i cambi di residenza e così via quindi queste cose le abbiamo tradotte poi in schede nel nostro schema di piano sono tutte tradotte in schede sono tradotte in singoli obiettivi qui ho fatto le macro naturalmente e per ogni obiettivo poi ci sono i tempi e le diverse responsabilità direi carissima irene che questa roba un po torrentizia è finita tolgo la condivisione e lascio la parola a voi allora eccoci qui grazie michele ci sono alcune domande e e non so se abbiamo appunto qualcosa ho risposto io adesso mentre stavamo scorriamo le scorriamo un po e allora un collega giovanni bulgarelli chiedeva se era disponibile un format del piano triennale 20 24 20 26 è quello che abbiamo fatto quindi c'è e ho mandato comunque il link diciamo al piano nazionale diciamo ed è qui nella nella chat quindi quello lo possono vedere se qualcuno insomma intanto vuole cominciare a vedere un po di che si tratta eh rosa aria cambria del comune di montalenghe chiede dice a parte l'importanza immagino del piano triennale di cui si stava parlando dice vi sono sanzioni in caso di mancata adozione eh non è che hai sanzioni ma ti manca una parte di attenzione redigere il piano è una delle condizioni dell'articolo 18 bis del cad sanzioni per mancata transizione al digitale quindi sì ci sono sanzioni ovvio che in prima battuta è come nel calcio il cartellino giallo e per cui ti dicono amico mio non l'hai fatto perché vedono perché tu lo fai lo pubblichi in amministrazione trasparente quindi vanno a vedere se c'è o non c'è ovvio che se tu non l'hai fatto non è che domani ti hanno 10 mila euro di multa però te lo segnalano e onestamente non è bello farlo perché te lo impongono non è bello scusatemi ma anche come metodo poi l'altra cosa che chiedeva sempre la collega Cambria diceva per i finanziamenti regionali 1.7 non so bene che cosa stesse parlando forse l'avevi nominati tu quanto tempo abbiamo per rivolgersi alle regioni io non so nulla allora l'1.7 è bando PNRR attribuito alle regioni per creare la rete dei facilitatori digitali come avviene nel nostro paese però ogni regione ha scelto quello che ha voluto ci sono le regioni che hanno assunto e formato i facilitatori poi hanno fatto un bando rivolto ai piccoli comuni dicendo dimmi marche ad esempio dimmi se vuoi o no un facilitatore digitale oppure ci sono regioni che danno i soldi direttamente ai comuni e gli dicono prendi un facilitatore regioni che dicono presenta un progetto prendi il facilitatore e così via dovete guardare nei siti delle vostre regioni non so rosaria in che regione sia guardate nei siti delle vostre regioni e dovete vedere se è stato attivato le procedure per il bando 1.7 PNRR se è stato attivato vi consiglio caldamente di correre perché se correte i nostri 0.7 dicono che è del comune di Montalenghe in Piemonte credo potrebbe essere che il comune di Montalenghe guardi se sembra strano che la regione Piemonte non abbia attivato il bando facilitatori digitali bisogna vedere che forma ha adottato la regione Piemonte e lì dovete guardare un po' in regione o informarvi in regione o attenzione scusa Mirene ho visto proprio ieri che sono stati attivati è stato oggi forse su LinkedIn il nuovo bando quello per il servizio civile digitale è stato riaperto oggi quindi anche quella può essere una forma se guardate su LinkedIn lo trovate perfetto poi allora Federica Morabito del comune di Tovo San Giacomo diceva appunto il piano dove ce lo mandate spero di averle spiegato diciamo che appunto non mandiamo il piano ma c'è tutta diciamo una procedura con tutti i vostri comuni di analisi diciamo di quelli che sono i vostri fabbisogni dopodiché insieme diciamo con gli nostri esperti della task force regionale scegliamo diciamo quali sono le priorità e su cosa diciamo ci si deve concentrare su cosa diciamo da dove si deve partire abbiamo insieme dei micro progetti uno di questi appunto è quello che riguarda il piano triennale ma poi appunto c'è il manuale di gestione documentale e tanti altri diciamo che abbiamo verificato diciamo essere utili per voi poi Marco Antoci ci chiedeva e questo forse posso rispondere io per i comuni che hanno già attuato i primi micro progetti è previsto un'ulteriore fase di assistenza sì è prevista un'ulteriore fase di assistenza vi chiediamo anche comunque magari di avere un po' di pazienza perché il nostro diciamo obiettivo è quello di raggiungere tutti gli 285 comuni che siete sparsi su tutto il territorio nazionale con appunto una maggiore o minore presenza nelle regioni e questo diciamoci eh di numeri diciamo sono diversi insomma da regione a regione e quindi questo diciamo ci sta magari facendo un po' tardare però credo che insomma stiamo stiamo cercando e e qualora diciamo aveste voi diciamo la una necessità diciamo di avviarli con una certa diciamo sollicitudine e vi preghiamo anche insomma eventualmente di contattarci nelle nelle slide comunque ci sono tutti i nostri le nostre mail e quindi magari vedremo diciamo di attivare con voi eh i primi i primi contatti insomma qualora questo non fosse stato ancora fatto e poi ehm c'è un altro collega Gian Antonio Di Sanzo che però non so di quale comune è che ci chiede se anzi ti chiede se una Pia che oggi ancora non utilizza Send ha l'obbligo di notificare ad un cittadino il suo domicilio digitale o può utilizzare il vecchio sistema qua si riapre la risposta è se il cittadino ha eletto il proprio domicilio digitale in Inad voi avete l'obbligo Send o non Send di notificare a quell'indirizzo digitale appunto Send è eh il fratello maggiore di Inad per capirci Inad è un domicilio digitale messo in Send ma che voi abbiate o no Send voi dovete rispettare la mia volontà di notifica sulla PEC che io ho eletto come domicilio. Di questo comunque dicevo anche vi ho scritto in chat che parleremo anche in un prossimo webinar appunto della Pia di Send e di Inad e probabilmente nel mese di aprile insomma comunque ve ne daremo vere daremo notizie insomma in cui faremo un po' più un affondo su queste su queste banche dati su queste piattaforme. Poi c'era eh vabbè Rosaria credo abbiamo già risposto Daniele Potenza del comune di Comignago eh in Piemonte che ci chiedeva e qui insomma ecco non so quanto possiamo rispondere comunque se con l'avanzo del contributo PNNR è previsto che possa essere utilizzato ad esempio per videosorveglianza o altri servizi voi cosa consigliate di fare? Utilizzarli tutti per prolungare e implementare la digitalizzazione nei successivi anni? Yes cioè nel senso che altrimenti è un po' tirata per i capelli cioè con molta franchezza so che i comandanti e i sindaci gli piace tanto la videosorveglianza però onestamente non sta nelle finalità del per cui l'M1C1 dovete fare riferimento all'M1C1 che è il filone dal quale è stato attunto PNRR cioè astrettamente la videosorveglianza informatica ma è tanto astrettamente cioè se voi avete soldi che avanzano dovete implementare i servizi digitali potete pagare l'affitto del cloud potete estendere anche qualche altro servizio per capirci potete prendere qualche infrastruttura che vi serve per digitalizzare quello sì potete farlo videosorveglianza la vedo molto tirata per i capelli francamente allora l'ultima vabbè credo che abbiamo già risposto sia ad Anna Ferrara che a Giovanni Bulgarelli che appunto ci chiedeva come come contattarci e per essere contattati contattateci ditecelo e comunque insomma teniamo memoria diciamo di questa di quanto ci stiamo scrivendo qui in chat magari insomma eventualmente lo faremo noi allora io se non ci sono diciamo altre domande vi condividerei un secondo lo schermo per farvi darvi notizia del prossimo appuntamento che è appunto non so se ecco qua allora il prossimo webinar è sugli obblighi per i comuni in tema di accessibilità con i nostri relatori saranno Gianluca Finito e Alberto Masini il webinar sarà il 7 di marzo dalle 3 alle 4 e mezza vi consiglio di non perderlo insomma perché oltre che essere colleghi bravi ed esperti sono anche particolarmente appassionati al tema e ci sono degli obblighi per i comuni anche di pubblicazione di questi e sarà un'occasione anche per parlare insomma per accennare un po' non soltanto agli obblighi di pubblicazione degli obiettivi di accessibilità ma anche diciamo un po' di accessibilità di quello che significa diciamo rendere fruibili siti e servizi a tutta la cittadinanza e vi compreso persone con disabilità più o meno gravi diciamo che appunto devono poter essere in condizioni di accedere alla diciamo ai nostri servizi e direi che appunto queste sono le nostre mail alla fine diciamo del webinar appena chiuderemo sarete reindirizzati su una pagina dove potrete appunto rispondere al nostro questionario di gradimento vi preghiamo insomma vi invitiamo a farlo eventualmente anche fateci anche proposte diciamo di temi che possono essere di vostro interesse insomma e fermo restando quella che è insomma la programmazione che stiamo facendo e che appunto viene anche un po' cambiata rispetto a quelle che sono anche le novità e quello che succede e insomma cercheremo di accontentarvi e se c'è qualche tema diciamo di interesse di molti se non di tutti insomma cercheremo di approfondirlo insieme di trovare un'occasione per parlarne quindi se non avete altre se non ci sono altre altre domande altre cose abbiamo ancora forse qualche qualche minuto però se non c'è altro possiamo anche chiudere il webinar io vi vi ringrazio di essere stati numerosi fino alla fine come sempre e appunto per qualsiasi cosa scriveteci e contattateci grazie a tutti e buona serata grazie Michele grazie a tutti voi buona serata grazie grazie a tutti